Buongiorno ragazzi, mi chiamo Gian Umberta Cinelli e sono un eco-narratore, una persona cioè che racconta storie di natura. A Cuneo vi parlerò di un mare profondissimo, profondo 550 chilometri e pensate, noi ci viviamo proprio sul fondo, ovviamente non è un mare fatto di acqua, ma di aria, è un cuscino di gas che avvolge il nostro pianeta e ci protegge dai meteoriti, da alcuni raggi del sole pericolosi, ci permette di respirare e ci nutre. Non solo, racconta anche tante storie, storie che ho raccolto e ho messo nel libro Sun El Blue. Sun El Blue è un viaggio, un viaggio che parte dalla superficie della Terra e si conclude nelle profondità siderali del cosmo. Incontriamo lungo questo viaggio le formiche volanti, le coccinelle, tanti altri insetti, uccelli, pipistrelli, il campione del mondo di salto e anche l'animale che vola più in alto di tutti. Chi è? Ovviamente non ve lo dico adesso, ve lo svelerò a Cuneo. Per adesso vi fornisco un indizio, non ha le ali. Ci vediamo a Cuneo, ciao! Grazie!